E siamo ancora alle prese con Tex, perché ho trovato in un mercatino un altro celeberrimo Texone, naturalmente buonasera, benvenuti o ben ritrovati su Cannotv, oggi parliamo del Texone numero 4, risalente al 1991, si intitolava Piombo Rovente, io l'ho trovato nella ristampa Stella d'Oro, come potete vedere, scritto da Claudio Nizi e probabilmente qualcuno avrà già capito. Guardando questa copertina, ormai entrata nel mito, trattasi del Texone di Sergio Zaniboni, il diabolico disegnatore torinese che naturalmente, proprio tra le pagine del Re del Terrore, è entrato nel mito, come ci racconta questa introduzione, tra l'altro curata dallo stesso Sergio Bonelli, dove tra le altre cose c'è naturalmente la consueta intervista al disegnatore in questione e vedete appunto qualche tavola tratta da diaboliche, diaboliche ed evacante per la precisione, oltre a un autoritratto, scusate, piuttosto ironico, dello stesso Zaniboni che è scomparso qualche anno fa, e poi alcuni studi preparatori per Tiger Jack e Kit Carson. Questo infatti era non solo il primo approccio di Zaniboni a Tex, ma addirittura il primo approccio di Zaniboni al Western, perché questo disegnatore, naturalmente particolarmente a suo agio tra le ambientazioni cittadine, non era assolutamente avvezzo al genere Western. Infatti aveva una gran paura di disegnare i cavalli, come ci raccontava Sergio Bonelli in questo editoriale che funge da introduzione alla storia, lo corteggiò a lungo domandandogli più volte, insomma, se se la sentisse, ecco, di disegnare un Texone, fino a quando Zaniboni accettò, perché ritiratosi in provincia di Torino, vicino ad un maneggio, ecco, prese dimestichezza disegnando i cavalli, quel tanto da permettergli, appunto, di affrontare con meno insicurezze una storia di Tex. E quindi il quarto Texone, appunto, è stato disegnato, come ben sappiamo, da Sergio Zaniboni. Scritto da Claudio Nizi, ora io non ho capito se la storia disegnata da Zaniboni è stata scritta appositamente per lui da Claudio Nizi, oppure se, vista questa difficoltà di Zaniboni appunto a disegnare i cavalli, si è scelta, tra le sceneggiature che avevano in archivio in Bonelli, una di Claudio Nizi che potesse ben adattarsi alla matita di Zaniboni, perché questa storia è un pochino particolare. Come appunto, e ancora una volta cito, lo cito, ci racconta l'editoriale che funge da introduzione, ci vengono rievocati tutta una serie di film western, di grandi film western da Mezzogiorno di Fuoco, L'uomo che uccise Liberty Valance, Sfida Infernale di John Ford e tanti altri che si ambientano in città, partita d'azzardo naturalmente di George Marshall, o che comunque hanno un legame con la cittadina western. Naturalmente ce ne sono di vario tipo, ecco, di cittadine western, però vi sono molti film all'interno della cinematografia western che anziché ambientarsi tra canyon, magari praterie, ecco, o addirittura anche boschi, foreste, steppe, eccetera, eccetera, si ambientano all'interno di cittadine, dove quindi i personaggi si muovono più a piedi naturalmente che a cavallo. Ed ecco qui, come mai, insomma, questa sceneggiatura è stata consegnata, ecco, alla matita di Sergio Zaniboni, che appunto non si trovava particolarmente a suo agio a disegnare i cavalli. La storia di questo texone è particolarmente semplice, forse una tra le più semplici delle sceneggiature che si sono viste sulle pagine dei texoni. Tex e Carson giungono nella cittadina di Serenity perché hanno bisogno di un cavallo, visto che sulle montagne rocciose, poco lontano, da lì Tiger Jack e Kit Wheeler sono rimasti, insomma, senza cavallo. Così arrivano in questa cittadina col proposito di fermarsi giusto il tempo per prendere un cavallo e tornare dai due pard, però vi incontrano lo sceriffo Benson, che è una vecchia conoscenza di Carson e Tex, uno sceriffo piuttosto anziano, ma comunque molto onesto, che sta cercando, insomma, per quanto gli è possibile, di difendere un uomo che lui stesso ha arrestato dopo che questo ha ucciso uno degli sgherri del potente del luogo, del paese, un certo Slattery che naturalmente spadroneggia facendo il bello e il cattivo tempo, come si suol dire. Naturalmente Tex e Carson, dinanzi a questa situazione, non potranno di sicuro voltare le spalle allo sceriffo Benson e così organizzeranno tutto un piano naturalmente coinvolgente anche Kit e Tiger Jack, che nel frattempo arrivano in paese anche loro naturalmente per dar manforte a Tex e Carson, per cercare di allontanare parte della cricca di banditi alle dipendenze di Slattery, quasi una trentina, quindi veramente troppi da affrontare anche per i nostri indemoniati pard, e naturalmente al termine di questo piano, forse, forse, io non vi faccio spoiler per carità, però credo che sia abbastanza intuibile l'epilogo di questa storia, forse la cittadina di Serenity riuscirà a ritrovare appunto quella serenità che aveva perduto. La sceneggiatura, come vi dicevo, è veramente semplice, forse troppo semplice, e ci sono delle ingenuità che ho riscontrato. Ad esempio è interessante notare come la figura di quest'uomo che si trova in prigione difeso, prima arrestato ma poi difeso da Benson, che cerca in tutti i modi di evitare che finiscano le mani di Slattery, è soltanto un MacGuffin, perché praticamente compare nelle primissime pagine della storia, le prime 15-20 pagine della storia, per poi non essere più menzionato, non si vede più, non viene più menzionato da nessuno, quando invece è la causa scatenante di tutto, naturalmente, e naturalmente Tex e Carson hanno la fortuna di... la sfortuna per Slattery, naturalmente fortuna per Benson, e quest'uomo che si trova imprigionato, ma del quale poi non avremo più notizia nel corso della storia, hanno la fortuna di capitare proprio in quella cittadina, in quel preciso istante. Però non si fa più menzione a quest'uomo che si trova appunto imprigionato, che ci viene mostrato nelle primissime pagine di questo texone, come potete vedere da queste tavole eseguite da Sergio Zaniboni, ma di cui poi non ci viene accennato più niente nel corso della storia. È una scelta voluta, oppure è una piccola ingenuità di uno scrittore preparatissimo naturalmente con il genere western e con molti altri generi, come appunto Claudio Nizi, che qui scrive una sceneggiatura di pur azione, tutto sommato, è una storia molto dinamica dove vediamo Tex e Carson in azione assieme a Tiger Jack e a Keith Wheeler. Ci sono pochi dialoghi, tutto sommato, anche se purtroppo le azioni sono rallentate da delle didascalie che veramente stoppano il ritmo della storia. Ogni singola azione ci viene descritta, raccontata dalle didascalie anche quando non sarebbero necessarie. Naturalmente vediamo ciò che sta succedendo senza che ce lo raccontino, ce lo descrivano nei minimi particolari le didascalie. Pochi dialoghi quindi, ma molte didascalie che veramente rallentano il ritmo della vicenda. Una vicenda che poi è assolutamente semplice, è una pura routine, come qualcuno potrebbe dire. Effettivamente questa storia assomiglia molto a quei B-movie western, come ci racconta anche l'introduzione del volume, che venivano spesso e volentieri girati in questi set cinematografici di queste cittadine, che poi fungevano da set a più film, la stessa cittadina fungeva da set a più film, proprio perché appunto le produzioni spesso e volentieri di questi film, di questi film di serie B, di questi B-movie, erano risicate e quindi non ci si poteva permettere di andare a girare magari nella Monument Valley dei film di John Ford, ecco per esempio, ma ci si doveva accontentare della cittadina. Da qui si costruiva attorno alla cittadina una trama veramente piccolina, una trama che tutto sommato era più un canovaccio, ecco che è una vera e propria sceneggiatura, attorno appunto alla quale si sviluppava il film. E questo Texone sembra veramente un B-movie, con una trama assolutamente telefonata, nel mentre, che vi dico ancora due paroline, insomma vi mostro i disegni di Sergio Zaniboni, di cui poi varrà la pena insomma soffermarsi un attimino, dicevo, una sceneggiatura assolutamente telefonata, di pura routine, senza grandi colpi di scena, con dei personaggi tutto sommato poco caratterizzati, il cattivo Slattery che vedete in queste immagini anche, non ha assolutamente niente di particolare, è il tipico tiranno che inevitabilmente finirà per piegarsi, naturalmente, davanti a Tex e Carson, e così anche i suoi sgherri, forse un pochino caratterizzati da Zaniboni, che in alcuni punti risulta quasi caricaturale nella caratterizzazione di alcuni personaggi, per esempio c'è uno sgherro dell'antagonista principale che ricorda quasi John Carradine, l'attore John Carradine, eccolo qui, in questo caso, forse non proprio in questa vignetta, però in altre, compare con con il mascellone un po' alla John Carradine, anche lui alto, insomma, e smilzo come il celeberrimo caratterista hollywoodiano, qui vediamo forse qualche incertezza tutto sommato in Zaniboni nella rappresentazione dei cavalli, ecco, nell'anatomia dei cavalli, e alcuni tratti caricaturali riguardano anche altri personaggi che Zaniboni illustra nel corso di questa storia, per esempio il sindaco e qualche qualche suo insomma assistente ecco della cittadina in questione hanno, che tra l'altro vengono definiti da Tex come dei tacchini impomatati, effettivamente hanno un qualcosa che in qualche modo li riconduce ecco a dei tratti caricaturali quasi quasi umoristici. Forse il personaggio che è caratterizzato meglio ecco nel corso di questa avventura sia a livello caratteriale che a livello grafico vedete qui le matite di Zaniboni sul volto di Miss Darling che gestisce una sorta di bordello e che farà colpo nel vecchio reprovo Kit Carson è disegnata in maniera molto convincente da Zaniboni che guardate qui le regala delle espressioni veramente convincenti e qui passiamo a parlare dei disegni di Zaniboni ora i disegni di Zaniboni sono secondo me molto efficaci nel far muovere i personaggi guardate che pose naturali hanno Tex Carson ma naturalmente anche grossomodo tutti quanti i comprimari di questa avventura e vediamo un po' se mi riesce di mostrarvi qualcos'altro per farvi un pochino capire meglio ecco che cosa intendo guardate anche queste queste vignette come come risultano naturali i movimenti ecco di Carson e di Tex ci sono alcune soluzioni che ci ricordano molto da vicino i disegni che Zaniboni opera su Diabolic questo tratteggio incrociato per risolvere lo sfondo come potete vedere qui e poi ecco ho apprezzato molto i disegni di Zaniboni mentre vi mostro come Tex tratta sindaco e assistenti in questa sequenza veramente molto divertente ben disegnata da Zaniboni ci sono dicevo delle sequenze notturne che mi hanno colpito molto in cui ancora una volta possiamo vedere la somiglianza di questo Tex con Diabolic vediamo un po' se mi riesce ecco di mostrarvi per esempio vignette del genere no? dove quasi compaiono le sagome dei personaggi queste ricordano da vicino le tavole di Diabolic con appunto questi sfondi fatti di tratteggi a volte incrociati sono molto efficaci Zaniboni gioca bene con le ombre anche se in alcuni tratti ho trovato l'inchiostrazione di alcune vignette un pochino pasticciata soprattutto quando Zaniboni si trova a dover in qualche modo descrivere da lontano i personaggi ecco ho trovato quasi delle macchie d'inchiostro che forse potevano essere gestite in maniera un pochino più delicata vi mostro qualche altra tavola Zaniboni se insomma ha qualche difficoltà forse più di una difficoltà nel disegnare i cavalli è però bravissimo a ritrarre questa città deserta nella quale si muovono Tex e Carson e naturalmente anche Tiger e Keith questa città deserta nella quale gli abitanti sono tutti perennemente rinchiusi nelle proprie case ad osservare però naturalmente dalle finestre con le tapparelle abbassate quello che succede quindi la lotta che si tiene che dura per tutto l'albo praticamente tra Slattery e Tex Carson che insomma giocano a Slattery un inganno dietro l'altro e naturalmente come vi avevo detto prima alla fine Slattery non potrà fare altro che piegarsi naturalmente a Carson e Tex e vi mostro appunto ancora qualche tavola come potete vedere la storia si svolge quasi completamente all'interno di questa cittadina tranne una piccolissima parentesi in cui Tex e Carson nottetempo le sequenze notturne che vi ho mostrato prima si recano al ranch di Slattery quando egli è assente e fanno scappare via i cavalli attirando così parte degli uomini di Slattery al ranch ritrovandosi così la città deserta e pochi uomini quindi da affrontare le tavole di Zaniboni sono anche piuttosto interessanti secondo me a livello di regia pur mancando forse quel guizzo di di originalità non so per rendere veramente personali ecco le tavole a mio avviso comunque c'è una una realizzazione grafica ecco di questa sceneggiatura altrettanto dinamica peccato veramente per queste didascalie che appesantiscono in alcuni tratti veramente appesantiscono troppo questa storia e da qui mi viene da pensare che forse questa storia sia stata scritta molto prima del 1991 perché effettivamente ricorda le storie di Tex anche molto più vecchie in cui appunto c'erano queste didascalie che puntualmente insomma spiegavano ancora meglio che cosa stesse succedendo i siparietti umoristici tra Tex e Carson sono veramente molto simpatici quindi inizi sicuramente se c'è una cosa che sa far bene ma lo sappiamo non è una novità è caratterizzare appunto i dialoghi dei nostri part Tex e Carson in primis ma anche Tiger e Kit quindi è molto molto divertente vederli rapportare nel corso di questa avventura però nel complesso a mio avviso veramente poca roba pura routine appunto come un qualsiasi b-movie western vi mostro ancora una cosettina molto simpatica inserita da da Zaniboni ed è questa come potete vedere in questa vignetta nelle pagine finali di questa storia compaiono Galep Sergio Bonelli e Claudio Nizi che è lo scrittore naturalmente di questa storia un piacevolissimo omaggio che Zaniboni inserisce a queste tre figure importantissime naturalmente per il nostro ranger in camicia gialla a mio avviso uno dei texoni più deboli a livello di sceneggiatura anche se però comunque c'è un buon dinamismo eppur non essendo secondo me tra le migliori storie che si sono viste su Tex non solo sui texoni ma anche magari su altri speciali se non addirittura sulla serie regolare è comunque una storia molto molto piacevole che si può tranquillamente leggere in maniera anche piuttosto veloce nonostante la mole piuttosto imponente di pagine voi la conoscete l'avete letta vi è piaciuta fatemi sapere se ve la ricordate io sarò felice di leggere e rispondere a tutto ciò che eventualmente mi lascerete scritto grazie a tutti per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video ciao a tutti